Andiamo avanti, forza, dai che non c'è... No, no, no... Polizia, falchi! Vigiale! Andai a chi se vigiale! Oh, ma dov'eri? Te l'hai detto 100 voti che se la pressione da allassare il cuore! In che abbiamo messo le punnettezza o non ti vetti più? Vabbè, ma noi dobbiamo essere veloci! E comunque adesso vi mettete a rubare pure nei negozi di strumenti musicali! Non è vero! Ma poi tu, posso capire che ti puoi picciolo! Ma l'hai messo il microfono che ti andrà a fare! Ma che d'altro? Vi state sbagliando! Scendo e controlla con lei! Un saluto con lei una vecchia aria nell'Oxoma per me sento tutto sul tasso! Ma dai! Ma sembra una scusa! Sapete dove possiamo trovare i spacciatori del quartiere? Ma che ne sappiamo! Sapete dove possiamo trovare quelle che rubano i motorini? Ma che dici? Tu vuoi sapere! Sapete dove posso trovare un gabanetto? Ma che... Ma stiamo facendo una trasmissione teleattiva! Ma quella che resiste! Vai, scendo e controlla! Ok... Ma poi sento un cavolo! Ma che cos'è? Dimmi una cosa è assunto droga? No! Ora vediamo! Unisci le gambe! Facciamo un testo! Mettili con il braccio sinistro così! Così! Alzai il braccio destro! Così! Alla canta! Esattamente 5 minuti da accostare! Siamo in servizio! Ehi! 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 Chi sa dove metto il documento! Antonino Matranga! Ehi! 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 Ehi!